Alex Zanardi, un'altra vittoria, un bel modo di iniziare la stagione 2015? Sì, sono molto contento. Diciamo che la fortuna e anche un po' la sfortuna è che in Italia, nella mia categoria, ci sono ragazzi che hanno sicuramente potenziale ma che devono ancora crescere e quindi molto spesso mi ritrovo, non dico a correre da solo, ma ad avere abbastanza vita facile. Questo poi non è lo specchio della situazione che trovo a livello internazionale quando poi mi vado a confrontare con gli atleti più forti a livello mondiale che ci sono puntualmente alle gare di Coppa del Mondo o al Mondiale. Quindi qui un po' la sfortuna, il fatto di non sapere mai esattamente dove sei, però sono convinto di aver fatto un'ottima prestazione oggi, è un buonissimo inizio, per cui avanti così. 2015, quali sono gli obiettivi di questa stagione? Beh sai, a cronometro domani metto la maglia di campione del mondo perché dal regolamento il campione in carica deve usare quella, quindi qualsiasi risultato al di sotto del primo posto è logico che è una piccola delusione, però non è che si corre soltanto per vincere, quando sai di poterlo fare ci provi con tutto te stesso ed è quello che farò anche quest'anno, dopodiché ci sono anche gli altri, bisogna anche accettare l'idea che magari mentre siamo qui io e te a chiacchierare loro sono là a sudare, a lavorare. Io oggi ho fatto il mio, continuerò a farlo da qui all'inizio del mondiale e poi cercherò di riconfermarmi, di riportare di nuovo a casa la maglia e magari di riuscire anche a riportare quella nella corsa in linea che invece l'anno scorso mi è sfuggita ad un soffio a favore di un avversario comunque molto forte che rispetto tantissimo che è il sudafricano Ers van Dijk. Nel 2016 ci sono le Olimpiadi? Sì, questo lo sapevo, no scherzo, è logico, è un sogno poter pensare che alla soglia dei 50 anni sarò ancora lì a giocarmela, spero in modo competitivo, ne sono convinto, tecnicamente i numeri continuano a darmi ragione, nonostante il fisico logicamente non possa migliorare in questa fascia di vita, ma teoricamente dovrebbe regredire, invece le cose continuano ad andare molto bene per cui ciò che faccio lo faccio soprattutto perché mi diverte. In quell'occasione la posta in gioco avrà un valore completamente diverso e quindi il sogno è di poter non solo essere competitivo ma magari portare ancora a casa delle medaglie. Handbike, ancora automobilismo, cosa ti dà la forza di andare avanti? Come hai detto tu, alla soglia dei 50 anni trovi ancora gli stimoli per nuove sfide? In realtà non ne serve molta di forza perché io ho la grande fortuna di poter fare cose che nascono da una scelta, non da un'imposizione. Ci sono persone che la passione la devono trovare all'interno di un contesto professionale, lavorativo, comunque che serve soprattutto per mettere i maccheroni sulla tavola. Per me è diverso perché mi dedico ad attività che nascono come passione e ho la grandissima fortuna di poter trasformare addirittura in un mestiere perché ho aziende che mi seguono, che su di me fanno degli investimenti e che logicamente contano anche sui risultati che io posso conseguire. Quindi no, io non credo si possa parlare di forza di volontà o di dedizione se non nella misura in cui appunto è logico che sudo, lavoro, macino chilometri però il piacere è veramente quello, dopodiché riuscire anche a vincere delle gare, a misurarsi con gli altri, ad avere delle soddisfazioni è un piacevolissimo valore aggiunto ma arriva dopo. Grazie.